Cosa c'è di nuovo? So che avete fatto anche una bella riunione in quel di Palmanova, no? Sì, certo direttore, buonasera ai nostri telespettatori. Come promesso sono qua a raccontarvi questa settimana di un evento, direi, abbastanza storico, importantissimo per la prima volta. Quattro sezioni di AI, l'Associazione Interna di Lucemia e Linfomi, si sono ritrovate a Palmanova in un noto locale. Quindi parliamo di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste. Soprattutto Udine che poi gestisce anche Gorizia con i rispettivi presidenti. Un incontro che è la base di un futuro dove si vuole creare una confederazione di rete tra le quattro sezioni per poter garantire un maggior contributo, dar fiato ai nostri progetti in sinergia. Sinergia che significa che ognuno rispetta i propri ruoli all'interno del proprio territorio, ma lo scambio di idee può portare sicuramente a crescere un po' quello che è la precisione e soprattutto l'assistenza. In modo particolare nella sanità pubblica, caro direttore, che ne abbiamo già discusso, che va un attimino guidata anche su questo tragitto che noi stiamo impostando insieme alle altre associazioni. E riguarda l'ematologia, ovviamente. L'ematologia che è un fenomeno che sta crescendo sempre di più nelle richieste di assistenza, ma soprattutto anche per quanto riguarda l'aspetto familiare. C'è anche una penura di sangue, una donazione di sangue che va ad esaurirsi. Si chiede, insomma, no? Infatti in quella sede si è parlato di ADMO, che è l'associazione donatoria midollo osseo, che è una delle associazioni che si può sposare all'AIL. Infatti uno dei progetti è quella, oltre ad entrare nelle scuole per sollecitare il volontariato e il valore del dono. L'ADMO è quell'associazione che più si avvicina per esigenze, soprattutto all'AIL, e quindi sarà anche un progetto che riguarderà l'ADMO. Quindi siamo felici di questo primo incontro, che avrà anche poi un seguito, prima del Campione Nazionale dell'Esteri Natale, e forse produrremo, anche, e sono stato incaricato di farlo personalmente, un periodico regionale che regolga le informazioni di queste quattro associazioni. La mia domanda è però anche una domanda un po' così. Ma i giovani lo sanno che esiste l'AIL, che esiste l'ADMO, lo sanno o no? Guardi, direttore, questo è un quesito che ci siamo posti, all'irà della conoscenza della materia, quindi la curiosità di informarsi anche, perché noi siamo un esempio. Ecco, è già importante che sia un esempio, lo dico con onestà intellettuale, perché ci sono bravissime persone, ma vorremmo che si avvicinassero più giovani per continuare un'attività di solidarietà e di volontariato, che stenta a esserci, perché, come sta succedendo, vede, se non c'è il ritorno economico la gente fa fatica, però bisogna anche impegnare l'anima e il cuore in queste cose, caro direttore, se no non si va a nessuna parte, ce n'è sempre più bisogno.